Il fine di settimana del giorno 26, 27 e 28 di maggio del 2023 sono andato a Urussanga, nel sud di Santa Catarina per fare video mostrando come è stato il 17 ritorno alle origini una festa fatta per tutta la famiglia con tantissime attrazioni e tutti questi video lo andremo a vedere nelle prossime settimane qua nel canale BrasilItalian i video in portoghese saranno mettesti via nel canale con belli videos che da so i link nella descrizione di questo video e questo video, primo di tantissimi che andremo a vedere qua nel canale BrasilItalian è un pochettino della presentazione del gruppo Savi Fratelli dei fratelli Everaldo Savi Mondo, il Dado e anche Edson Savi Mondo, il Cookie in tanto ascoltiamo un pochettino vediamo anche bella immagine dei bastidori e di quello che succedeva nel 17 ritorno alle origine iscriviti sul canale, strucca il campanile per non perdere i prossimi video e non ci stai mai dimenticare anche nella descrizione link del canale Corbella Video per guardare tutti i video in portoghese 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 il nostro canale e ci stai mai per guardare tutti i video in portoghese il città di un pochettino il città di un pochettino città di un pochettino di un pochettino Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.